Mattina con noi, seconda parte, siete sempre sintonizzati sul canale 264 del Digitai Terrestre e trasmettiamo all'interno dell'Università Niccolò Cusano. Oggi, non vedevo l'ora di cominciare questa seconda parte perché forse andiamo un po' indietro nel tempo per le persone un po' più in là con gli anni, ma sicuramente parliamo di un legame che rimarrà nella nostra mente e nel nostro cuore per tutta la vita. Quando pensiamo ai nostri nonni, ecco che spunta un sorriso, ma anche una lacrima perché è uno dei legami più importanti. E oggi dedicheremo questa seconda parte di Mattina con loro a voi nonni, ai nonni perché sono una parte importante della nostra vita e chi ha la fortuna di avere ancora i nonni sicuramente è ricchissimo e non se ne accorge probabilmente. Ne parliamo dell'importanza dei nonni per i nipoti e per la famiglia stessa con Alexia Di Filippo, psicoterapeuta, specialista in self-analisi bioenergetica e psicologa clinica strategica in collegamento con noi. Buongiorno a lei Emanuela, ben trovata e ben trovati ai nostri telespettatori. Non vedevamo l'ora di cominciare questa seconda parte di Mattina con noi proprio perché i nonni, ai nonni dobbiamo tanto e soprattutto siamo in debito con loro, è giusto così. Che cosa rappresentano i nonni per i nipoti? Che cosa sono i nonni per i nipoti e poi anche, ne parleremo poi magari nel corso della chiacchierata, quanto siano importanti per la famiglia stessa. Intanto quel legame indissolubile nonno-nipote. Quelle del nonno e della nonna sono figure importantissime, centrali nella vita di quei piccoli che hanno la fortuna di poterne godere la presenza per via di quell'amore grandissimo, incondizionato, colmo di tenerezza, pieno di attenzioni che i nonni riservano ai nipoti. E per darvi, diciamo, prova di quanto questo sia vero e di come questo amore grandissimo metta radici nel nostro cuore e cresca durante tutta la vita e dia frutti dolcissimi anche nella tarda maturità quando i nonni non ci sono più e vorrei mostrarvi, ho portato per voi il disegno di una signora, pensate, di 51 anni che raffigura la sua nonna. Cominciamo a vedere questi disegni, perché la dottoressa Di Filippo... Il numero uno, solo il numero uno. Intanto cominciamo con il numero uno ed eccolo il disegno commissionato a questa signora di 50 anni, perché lei, dottoressa Di Filippo, ha dato dei compiti a dei bambini ma anche a delle persone un po' più adulte di disegnare, insomma di fare un disegno dedicato ai propri nonni e questo è di una signora di 51 anni, pensate ancora a quei ricordi nitidi. Esattamente, in verità questo è l'unico disegno che è stato elaborato spontaneamente da questa signora, proprio a motivo di un nostro approfondimento proprio sul tema che da lei era stato proposto e è molto significativo perché, come potete vedere, è ritrovato che si tratta questa amatissima nonna con questo volto dolcissimo e la signora che chiameremo Carla, un nome di fantasia, tiene a specificare come prima cosa che la nonna Gabriella aveva un grande cuore e come vedete glielo raffigura, proprio glielo disegna sul petto e la ricorda per questo suo grembiule con i fiori e per un fazzoletto che era, diciamo, multifunzione e con questo fazzoletto bianco la nonna tamponava piccole sbucciature, asciugava lacrime Era un fazzoletto miracoloso Esattamente, c'è una tale delicatezza in questa descrizione che ci restituisce la dolcezza di questa nonna con la bimba e poi, come potete vedere, è stata raffigurata, è stata disegnata la tavola che ci restituisce una sensazione di calore familiare, di dolcezza con questa tovaglia decorata con delle ciliegie e anche è stato disegnato da Carla, sono stati disegnati i fornelli perché questa nonna, come molte nonne, sapeva elaborare dei manicaretti meravigliosi il cui ingrediente segreto era il grande amore, il desiderio di fare felice la sua bambina, la sua nipotina e c'è un aspetto davvero in questo disegno anche interessante che mi piacerebbe approfondire se il nostro regista ci restituisce l'immagine, eccolo qui la nonna è raffigurata con accanto una scopa e la signora Carla ci dice che era un po' maniaca della polizia e quindi per questo ha voluto inserire quest'elemento da cui la nonna insomma non si separava facilmente, appunto attenta come era all'ordine e alla polizia della casa e in questo aspetto ci fa vedere anche l'indulgenza con la quale anche a tanti anni di distanza vengono percepiti i difetti, le piccole manie dei nonni e questo è un tratto caratteristico del rapporto nonni e nipoti perché ad incontrarti sono due fragilità, quella del bambino che deve essere accompagnato nella crescita, che ha tutta una serie di difficoltà, che a volte anche ha un modo di esprimere il proprio dolore o le proprie paure in modo non immediatamente leggibile dai genitori assediati dagli impegni e travolti ecco da molto spesso da dei ritmi che non gli consentono quella paziente grazia che hanno i nonni. È vero, brava. E oltretutto appunto dicevo è un incontro tra due fragilità perché c'è anche la fragilità dell'anziano che ha le sue defiance, le sue piccole manie. Si aiutano a vicenda nonni e nipoti, è una compensazione. Esattamente, esattamente e diciamo che si agevolano della reciproca pazienza perché entrano in un contatto profondamente empatico in cui entrambi si sentono riconosciuti, amati e sostenuti e questo è davvero l'essenza del rapporto nonni e nipoti. Inoltre, diciamo che è un rapporto che dà ai piccoli la possibilità di avere dai nonni il racconto di altri tempi in cui si viveva diversamente, con meno mezzi, ma anche senza la tecnologia. E a proposito di questo vorrei sottolineare un altro aspetto molto gradito dai bambini, ovvero che l'attenzione dei nonni è completamente orientata su di loro, non sono distratti dai telefonini, dai dispositivi digitali, come ahimè. Succede quando sono in famiglia. Però sono i nipoti che insegnano la tecnologia ai nonni. Questo dare e ricevere, no? Tra nonno e nipote. I nonni regalano ricordi, regalano emozione, regalano tanto amore e poi invece i nipoti li portano all'attualità, la modernità. E quindi veramente sono i nonni che chiedono ai nipoti, è successo questo il mio cellulare? Mi puoi aiutare? Oppure devo fare questo con il computer ma non ci riesco? Mi puoi dare una mano? Questo per quando i nipoti sono un po' più grandi, ma io vedo che i nonni chiedono aiuto anche ai bimbi piccoli perché sanno che sono sicuramente più avvezzi di loro alla tecnologia. Quindi c'è questo scambio continuo tra nonni e nipoti, dottoressa Di Filippo. È verissimo ed è uno scambio gradito da entrambe le parti anche quando c'è questa inversione di ruolo perché i nipoti si sentono importanti, sentono che i nonni poi apprezzano la dolcezza e la pazienza con cui gli illustrano le nuove tecnologie e dal contempo appunto i ragazzi, i bambini riescono a evidenziare una loro risorsa, una loro capacità, cosa che li rende molto fieri ed orgogliosi. Ma non è l'unico importante scambio che può avere tra loro di grandissima importanza? È la comunicazione che ha un altro passo rispetto a quella che i bambini e ragazzi hanno con i loro genitori. Come le dicevo, una comunicazione è più calma, è più attenta e quindi anche i bambini e i ragazzi si aprono tanto volentieri con i nonni. Spesso noi li utilizziamo tra virgolette, non con il senso cattivo del termine, li utilizziamo i nonni perché dove non arriviamo noi con il dialogo con i figli, perché spesso i figli con noi genitori si si aprono ma con dei limiti, invece utilizziamo i nostri nonni, i nostri genitori, quindi i nonni affinché loro parlino con i nipoti e chiedano cose a cui i nipoti rispondono. Fanno domande a cui i nipoti rispondono e quindi noi a volte i nonni li utilizziamo per aiutarci. È così perché appunto i genitori che sono investiti anche nella mission educativa sono più rigorosi sul rispetto delle regole e su tutta una serie di punti fermi nell'educazione e quindi talvolta bambini e ragazzi con loro non si confidano, specie se hanno combinato qualche marachella. Non solo, ma come le dicevo, il tipo di comunicazione con i nonni è spesso a una coloritura più tenera. I nonni si dimostrano più aperti proprio perché divincolati sotto certi aspetti da quella responsabilità che invece hanno i genitori e quindi i bambini ed i ragazzi con loro si aprono più volentieri e gli confidano i loro segreti perché sentono da parte loro un'accoglienza oserei dire totale e d'altra parte questo è proprio il bello, questa complicità ecco incredibile che si crea tra loro è davvero preziosa. La complicità dalla quale noi genitori ci sentiamo esclusi e poi parlo con voi nonni, voglio parlare con voi nonni che a volte ci rompete le uova nel paniere perché noi facciamo tanto per fargli rispettate le regole e poi arrivatelo voi con 4 e 4 8 con un sorriso e una promessa è che buttate all'aria tutto ma tanto i bambini sanno che a casa ci sono delle regole e a casa del nonno e dei nonni le regole non ci sono però ricordatevi quando voi eravate genitori e noi non ci potevamo muovere e non ci facevate fare delle cose ecco quelle cose ora a casa vostra sono permesse così siete cambiati totalmente è vero dottoressa di Filippo? La ringrazio Emanuela di avermi rappresentato una situazione che mi viene raccontata dalle sue pazienti, ricevo le famiglie perché appunto i genitori capita che entrino in una come dire in risonanza con i nonni e non proprio armoniosa perché un po' c'è anche lo dovete ammettere mamma e papà un po' di gelosia perché i bambini tendono a dire voi siete cattivi anzi si brutta e cattiva esatto mentre dicono di voler andare dai nonni o quando li andiamo a prendere non vogliono andare via noi non è che ci rimaniamo così bene capiamo naturalmente il motivo e per lì ci rimaniamo male però e li devi portare via forza esatto però vorrei dire a lei Emanuela e a tutte a tutti voi mamme e papà che ci state ascoltando che occorre rassegnarsi questa preferenza resterà ci sarà sempre i vostri sforzi e anzi mi sentirei di consigliarvi di non imbronciarvi e se accadono diciamo i nonni inevitabilmente vizieranno i vostri figli pertanto e vinceranno esattamente sotto questo aspetto non potrete pretendere nulla di diverso però se sentite che ci sono degli aspetti educativi molto importanti che devono essere rispettati che desiderate che i vostri genitori i nonni dei bambini promuovano nell'educazione dei piccoli sarà il caso che gliene parliate con diplomazia e tatto e soprattutto il consiglio che vi do è quello di coinvolgere i nonni nelle scelte importanti che riguardano i bambini perché più voi li coinvolgerete più loro saranno poi disponibili a diciamo contrattare con voi i vizi da limitare se voi invece li escludete e poi cerchiamo il loro aiuto allora ecco si sentono messi da parte in alcune scelte non perché sicuramente metterebbero bocca probabilmente ma per sentirsi solo coinvolti e accettati al 100% quindi non è che li cerchiamo solo quando abbiamo bisogno questo è no? Esattamente la collaborazione vince sempre e per di più anche rapportandoci al disegno di Carla che abbiamo visto lei scrive proprio sul disegno che la nonna l'ha cresciuta assieme ai genitori quindi riconoscendole pienamente un ruolo educativo centrale nella sua vita e quindi a motivo di questo desidererei dire ai genitori di non considerare i nonni come ecco un parcheggio perché è davvero questo significa davvero smarrire l'opportunità invece che un rapporto con i nonni completo che si colora anche degli aspetti educativi e degli aspetti di condivisione con voi genitori può dare ai bambini e quindi l'importante è comunque attivare un dialogo e fare attenzione alle piccole gelosie anche tra nonni attenzione! Nonni paterni e nonni materni che poi entrano in conflitto perché ci sono di mezzo le gelosie? Esattamente! Sta più con loro, sta meno con me perché quello ha fatto, quello ha detto, giusto? Esatto ma poi entrano in campo anche le questioni personali di mamma e papà con i suoceri! Mamma mia che argomento complesso! Pensavamo che fosse leggera, tutto bello, tutto idiliaco, bello i nonni, bello i nipoti ma non è così perché entrano soprattutto al giorno d'oggi entrano in funzione delle dinamiche che magari prima erano un po' sottaciute, adesso non più! Certo perché prima le famiglie erano più unite, adesso con diciamo anche le separazioni che sono purtroppo in crescita ci sono delle dinamiche più complesse. Io quello che dico sempre alle famiglie che chiedono il mio apporto professionale è di essere intelligenti e di agire sempre per il bene dei bambini perché noi siamo adulti e tra di noi le cose possono essere gestite in un certo modo ma i bambini teniamoli fuori dai conflitti, cerchiamo di valorizzare i nonni di entrambe le parti con le loro peculiarità, con quello che possono dare ai bambini e cercando di far sentire tutti i nonni apprezzati ed amati e ringraziati per il loro apporto nell'educazione e appunto in questo amore che trasferiscono sui nostri bambini. Perché dottoressa Di Filippo anche noi siamo belli contorti, cioè noi genitori abbiamo bisogno di loro ma al di là che abbiamo bisogno di loro perché i nonni sono un grande aiuto per le famiglie a livello economico e non solo perché pagare una babysitter sicuramente costa però al di là dell'aspetto economico che spesso e volentieri non c'entra, noi abbiamo bisogno dei nostri genitori come nonni perché naturalmente ci fidiamo di più di loro, lasciare i nostri figli ai nonni ci dà un senso di tranquillità che in altri momenti non avremmo, quindi abbiamo bisogno di loro, li cerchiamo, li affidiamo i nostri figli quindi però se poi i nonni continuano a fare i genitori, i nostri e i nonni, noi ci giriamo pure un po' perché hanno messo bocca nelle nostre cose, quindi pure noi dobbiamo cominciare a far pace con il nostro cervello è comprensibile quanto lei ha illustrato direi perfettamente per vari motivi, certamente i genitori sono più contenti di lasciare i bambini ad i nonni chiaramente perché ne hanno verso di loro maggiore fiducia per come accudiscono i bambini però è anche vero che la maggiore confidenza e anche il riattivarsi di alcune dinamiche personali che non sono state pienamente risolte con i propri genitori possono creare delle piccole incomprensioni e infatti la, diciamo, la mentela tipica è come i genitori sono stati severissimi e adesso assisto con i nipoti alla completa abdicazione Anarchia totale proprio Esatto Se fanno qualcosa continua, continua pure, no? È così, è così, però mi sento di dire ai genitori che ciò è normale e che si può ottenere una maggiore condivisione da parte dei nonni della linea educativa se li si coinvolge e si spiega loro il perché sarebbe meglio che si contenessero in questa indulgenza verso i bambini spiegando loro le ragioni in genere i nonni sono ben felici di fare ciò che è meglio per i nipoti e poi io dico sempre che se ci sono degli aspetti tra i genitori ed i figli che non sono stati pienamente risolti, che la crescita non ha fatto trascendere può essere davvero un'occasione quella della nascita di un bambino per affrontarli e dargli senso e superarli perché noi abbiamo parlato, Emanuela, in varie puntate dell'importanza del legame di attaccamento e anche del problema dei cicli di deprivazione ovvero sia di quelle problematiche che si trasmettono tra le generazioni proprio dovute a dei problemi nello stabilirsi del sistema di attaccamento e quindi se una persona sente tanto più se sta attendendo un bambino di avere dei sospesi, di avere delle carenze che derivano proprio dal rapporto con i propri genitori può essere davvero un'opportunità grandissima di spezzare la catena della trasmissione della sofferenza quello di chiedere appunto aiuto ad uno specialista per essere consigliato e per superare definitivamente i problemi e per sciogliere quei nodi che sono invece rimasti con i propri genitori in modo che a questi piccoli non si possa che trasmettere amore, armonia e al massimo che ci siano dei piccoli così, delle piccole querelle di nessuna importanza tra i genitori e i nonni che a volte sono anche simpatiche e non determinano grossi problemi né brutti ricordi è bello che le famiglie si possano riunire e che tutti possano avvalersi della reciproca presenza e del reciproco amore un rapporto sano tra nonni e nipoti e nonni e genitori nonni e famiglia sicuramente è un arricchimento per tutti e grazie ai nonni noi dobbiamo insegnare, possiamo insegnare ai nostri figli il rispetto delle persone di età più adulta di quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa dottressa Di Filippo, cioè l'ageismo, questa discriminazione nei confronti delle persone più anziane e quindi le persone più giovani che hanno poco rispetto per le persone più grandi e sta a noi genitori attraverso, anche attraverso i nonni far rispettare, cioè insegnare il rispetto ai nostri figli delle persone più grandi è verissimo sotto tanti punti di vista intanto si può intervenire con l'esempio è chiaro che quanto più un bambino osserva che i genitori valorizzano i propri genitori che li rispettano che si preoccupano per loro e che li amano e tanto più il bambino crescerà con questo rispetto con questo amore e con questa valorizzazione della figura dei nonni inevitabilmente e poi ci sono anche altri aspetti davvero importanti che si possono diciamo promuovere attraverso il rapporto con i nonni ad esempio perché i nonni come abbiamo detto anche negli scorsi interventi hanno in sé sono portatori delle memorie della loro generazione e anche della memoria storica in linea generale e quindi da parte dei genitori promuovere uno scambio che si può nutrire ad esempio della visione condivisa di film che riguardano l'epoca in cui i nonni erano giovani o di documentari storici che raccontino che cosa accadeva quando appunto i nonni attraversavano o l'infanzia o l'adolescenza può essere un'opportunità meravigliosa di scambio di promozione del dialogo e di trasmissione di valori importanti e sono momenti preziosi ed indimenticabili che bambini e ragazzi porteranno con sé per tutta la vita è il motivo per cui oggi vi ho portato il disegno che abbiamo visto una persona di 51 anni che ricorda con una precisione addirittura come se ce l'avesse accanto ancora oggi la sua nonna esatto esattamente e sono particolari carichi di significato affettivo e anche di riconoscimento di quanto la nonna è stata presente nella sua vita e sia stata una ricchezza del resto come diceva il giornalista statunitense Alex Alley nessuno fa per i bambini quello che fanno i nonni essi spargono polveri di stelle sulla vita dei piccoli e concludiamo con questa bella descrizione che al meglio non poteva dare il significato della bellezza dei nonni della loro importanza per noi ha in serbo altri disegni che hanno fatto i bambini ne parliamo però la prossima volta così ci facciamo un bel nodo al fazzoletto anche questa volta per dare appuntamento alla prossima puntata di mattina con noi con la dottoressa di Filippo per tornare ad occuparci dei nonni un bacio a tutti i nonni a chi ha la fortuna ancora di averli accanto e a tutti i nonni che sono lassù grazie dottoressa di Filippo per questa bella bellissima ed emozionante puntata buona giornata grazie a lei Emanuela la saluto saluto i telespettatori i nonni le famiglie tutte e ci vediamo la prossima volta arrivederci dottoressa di Filippo Alexia di Filippo psicoterapeuta specialista in self analisi bioenergetica psicologa clinica strategica grazie di essere stati anche oggi in nostra compagnia ci vediamo alla prossima puntata di mattina con noi buon prossimante giornata a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione